Poi spero che ci siano gli interventi sulle importanti tematiche sollevate e ora passerei allora la parola a Riccardo Tartaglia, tutti lo conoscete, è da anni responsabile del gruppo per il rischio clinico in Toscana, ormai ha un ruolo di leader a livello nazionale, ormai non di recente, insomma da qualche anno ti sopportano anche in giro per l'Italia, perché naturalmente il modello toscano ha fatto un po' scuola, diciamoci con questa cosa, anche su questo naturalmente noi non siamo contenti, prima perché siamo toscani e poi perché per contratto non siamo mai contenti di quello che facciamo. E allora oggi il suo compito sarà quello proprio di dire come, profittando della nuova organizzazione, il rischio clinico può meglio supportare e indirizzare le linee strategiche della nuova organizzazione. Bene, grazie per la presentazione Enrico, buon pomeriggio a tutti. Io provengo da un'altra sessione che ho seguito attentamente sul percorso nascita, sui rischi presenti nel percorso nascita. Devo dire che i dati che sono stati presentati dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi da un soggetto terzo al sistema, sulla mortalità materna in regione toscana e anche sulle mortalità, sulle complicanze gravi del parto, erano dati estremamente lusinghieri. Però non ci accontentiamo, non ci accontentiamo anche perché dobbiamo passare sicuramente da una fase 1 della sicurezza del paziente alla fase 2. Qual è la fase 1 della sicurezza del paziente? La fase in cui avveniva un incidente e si andavano ad analizzarne le cause e si introducevano delle misure di contenimento e di miglioramento. Come ci ha detto l'Akman in apertura del forum, bisogna passare alla fase seconda, quella in cui si analizza proattivamente il rischio, vuol dire che si analizzano i percorsi di cura, si cercano di individuare le criticità presenti nel percorso di cura e quindi si introducono subito delle azioni per migliorare la sicurezza delle cure. Queste sono le proposte che sono emerse dalla Convention Nazionale dei Clinical Risk Manager che abbiamo tenuto a Bari il 2 luglio. Ci hanno invitato i Clinical Risk Manager italiani che hanno lavorato in numerosi tavoli di lavoro proprio per individuare quelle che sono le migliori soluzioni per la sicurezza delle cure, la comunicazione professionale, l'educazione e il training mediante simulazione, sviluppare il lavoro di team, protocolli condivisi, condivisi nel senso che evidentemente si opera tutti quanti con gli stessi strumenti, con le stesse procedure che ovviamente devono avere delle forti basi di evidenza scientifica. I pazienti non sono più degli spettatori ma devono essere coinvolti in tutte le nostre azioni perché da loro possiamo avere veramente un valido supporto. L'Information and Communication Technology, l'importanza dei Reporting and Learning System oggi è rilevante proprio perché ci consente di raccogliere dati importanti rispetto a come migliorare la sicurezza. Ovviamente diffondere la cultura mediante sin dall'inizio, sin dalla formazione dei nostri studenti e quindi poi adattare, non far mai calare nulla dall'alto, ma adattarlo sempre diciamo alle differenti realtà perché ogni ospedale ha la sua storia, i suoi professionisti hanno la loro storia, e noi non possiamo in qualche modo vincolarli sempre a seguire delle procedure se non sono in qualche modo adattate alle differenze contestualizzate e diverse realtà. Questo è il nostro modello teorico che rimarrà anche dopo la riforma. Noi siamo convinti che ci debbano essere due linee nelle nostre aziende, una linea dei clinici che dovranno portare avanti i sistemi di reporting e learning e potranno essere anche dei clinici che continueranno a fare a tempo pieno il loro lavoro, dei clinici dedicando del tempo a che cosa? A quello che è il terzo pilastro della medicina, diagnosi, terapia e revisione della casistica. Quindi mortality, morbidity, review e anche gli audit clinici non sono che il terzo pilastro del processo decisionale in medicina, proprio perché mi consente di rivedere quello che ho fatto. Dall'altra parte le direzioni sanitarie, la linea manageriale e quindi l'importanza di misurare attraverso l'indicatore a disposizione, di analizzare quelle che sono le differenti situazioni e poi anche una funzione, diciamolo in modo chiaro, anche di controllo. Vedere se si opera correttamente rispetto all'applicazione delle linee guida, all'applicazione delle pratiche per la sicurezza e così via. Questo è il nostro sistema informatizzato, integrato di gestione del rischio clinico che abbiamo introdotto da luglio, lo stiamo sperimentando ancora, ci auguriamo entro l'anno di finire la sperimentazione e quindi dal 2016 poter partire con questo sistema che tra l'altro tiene dentro anche la tassonomia degli eventi avversi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il che ci metterà a confronto ovviamente a livello internazionale rispetto agli eventi avversi. La nostra organizzazione è quella di vedere da una parte delle strutture che hanno essenzialmente una loro collocazione in direzione sanitaria di patient safety management, che potranno includere ovviamente anche gli aspetti legati alla qualità dell'assistenza, e dall'altra parte avere dei clinical risk manager clinici con del tempo dedicato allo sviluppo del reporting e del learning system. E questo è bene che siano dei clinici che non si distaccano dalla prima linea perché sono loro i conoscitori, voglio dire, delle problematiche presenti in reparto. Abbiamo quindi attivato già dal 2014 questo coordinamento di area vasta e questo, devo dire, ha dato già dei buoni risultati perché le iniziative si sono moltiplicate in tutte le tre aree vaste, iniziative di formazione, di informazione, di collaborazione. Noi bisogna sempre più, come si può dire, dal centro, dalla regione, andare sempre più verso la prima linea, verso gli operatori, supportarli nella loro attività, nelle loro iniziative. Vado avanti veloce, quindi noi riteniamo che nella nuova riforma, nella direzione strategica, ci debba essere sicuramente un referente per il direttore generale, un clinical risk manager, che faccia da riferimento anche per tutta l'area vasta, quindi un clinico che abbia una sua autorevolezza, che abbia competenze in gestione del rischio clinico. Questa attività va affidata a chi ha fatto il corso specifico che noi abbiamo previsto con la scuola Sant'Anna di Pisa, non può essere affidato a chi non ha sviluppato specifiche competenze. Dall'altra parte abbiamo i patient safety manager, il background formativo è il medesimo, però qui si tratta di operatori che lavorano nelle direzioni sanitarie, nelle strutture qualità e sicurezza delle cure e che hanno la funzione di promuovere le pratiche per la sicurezza. Questo vedete un po' un'immagine grafica, una mappa di quella che è l'attuale situazione, quindi diciamo per ogni azienda territoriale, per ogni azienda ospedaliera universitaria, avere un clinical risk manager, tempo dedicato a portare avanti il reporting e learning system e quindi dei patient safety manager che sono nelle direzioni sanitarie, promuovono, fanno applicare e controllano una corretta applicazione delle pratiche per la sicurezza. Poi non cambia nulla rispetto agli attuali assetti, nel senso che anche qui avremo i facilitatori, più o meno uno per ogni struttura, ed è l'olio del motore del sistema di reporting. Sono quegli operatori ai quali non si delega la gestione del rischio, il rischio non si delega a nessuno, questa è una cosa che sappiamo con Enrico De Riseri dalla medicina del lavoro, ma tutti devono essere protagonisti e impegnarsi responsabili della sicurezza, i facilitatori che segnaleranno poi ai clinical risk manager gli eventi che riteranno da approfondire con un MMM oppure con un audit clinico. Guardate che questo nostro modello di reporting e learning system è un modello internazionale, perché è stato visto che dei modelli troppo centralizzati fanno perdere le informazioni necessarie a capire come sono avvenuti gli eventi avversi, gli incidenti, il cosiddetto storytelling, la storia degli incidenti, le dinamiche che si sono create quando si sono appunto verificati degli eventi avversi importanti, sono importantissime da conoscere e nessun sistema centralizzato ci consentirà di avere queste informazioni, perché per forza di cose dovranno essere dei sistemi che raccolgono dati essenzialmente essenziali. Ecco, quindi voglio dire questo. Così pure bisognerà, e questo anche l'avevamo già detto dal 2006, vedere di migliorare nelle forme che i direttori riterranno più opportune, cercare di creare dei coordinamenti tra tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente hanno a che fare con la sicurezza delle cure. Quindi sicuramente gli uffici affari generali per quanto riguarda il contenzioso, l'ingegneria clinica per quanto riguarda i device e le apparecchiature biomedicali, l'URP, la medicina legale, bisognerà creare evidentemente dei coordinamenti a livello di area vasta di queste attività. In sintesi quindi direi che noi dobbiamo mantenere l'attuale rete capillare di gestione del rischio clinico con i nostri facilitatori che sono, ripeto, l'olio del motore del sistema di reporting, avere delle strutture nelle nostre direzioni di patient safety management che si occupano anche della qualità e quindi avere dei facilitatori in ogni unità operativa che abbiano proprio questo del tempo dedicato a portare avanti il reporting e learning system e soprattutto quello anche che chiediamo è anche una maggiore integrazione a livello aziendale tra tutti quei soggetti, come dicevo, che si occupano direttamente o indirettamente di qualità e sicurezza. Probabilmente se noi riusciremo ad applicare questo modello, ad avere, a promuovere molto di più le analisi proattive dei rischi, vale a dire quelle analisi che cercano di anticipare l'evento avverso, probabilmente riusciremo ulteriormente a migliorare la sicurezza nelle nostre strutture. Sottolineo sicurezza perché recentemente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce l'hanno detto in un incontro che abbiamo avuto la scorsa settimana a Ginevra, è il driver di cambiamento della sanità in tutto il mondo, non solo nella regione toscana. Proprio perché è la parte critica della qualità. Se io non risolvo il problema della sicurezza nei nostri ospedali, i dati che abbiamo epidemiologici sugli eventi avversi ci dicono che è un problema rilevantissimo, non riusciamo a risolvere i problemi importanti per migliorare la nostra assistenza sanitaria. Grazie. Mi pare ci sono molti elementi, insomma mi rendo conto forse il pomeriggio in genere qualche propensione al... però insomma ecco, se ci sono osservazioni, domande, prima di chiudere io le riterrei opportune, insomma ecco, dagli interventi della nostra Daphne Rossi che sottolineava il problema dei tempi di attesa, della burocrazia. Noi ci siamo nelle aziende, la riteniamo soffocante, gli anziani che hanno sulle spalle le famiglie e che ancora il sistema non si fa carico, insomma. E poi resti che con passione ci ha presentato i buoni risultati, anche l'importanza dell'innovazione, ma anche i temi collegati appunto, temi specifici di assistenza, gli infermieri per esempio che hanno minore attitudine, no? Oppure il tema delle vaccinazioni, ricordate, temi importanti. Orlandi che ha sollevato, insomma ha messo in evidenza certo i successi degli ultimi 10 anni, perché appunto, diciamo no, 15 anni perché se ne comincia a lavorare, io appunto ero a Careggi e scrivemmo le linee guida regionali con il buon Inzitali e quindi quelli sono i tempi da cui si parte. Oggi la Toscana ha fatto molto, però i numeri ci dicono che ancora, questo è un po' il light motive di questo forno. Non è che non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto, non ci scoraggiamo, ma rimane ancora tanto da fare, i dati sono belli perché mettono in evidenza aree di sofferenza maggiore. Anche questo suggerimento del telestroke, dell'approccio drip and shift, che potrebbe essere il primo step prima del keep, insomma mi pare molto stimolante. Infine, insomma, l'ultimo intervento che mette insieme, approfitta, approfittando, come dire, sei un profittatore, approfittando del fatto che si fa questa fusione, che quindi abbiamo dell'economia anche di scala, di fare un asset organizzativo che vede nella direzione strategica o nel suo staff, insomma, poi discutiamone le risorse adeguate, risorse qualitative, prima ancora che quantitative, per garantire il patient safety e che cos'è, ha spiegato molto bene, e l'apparentamento con la qualità e la sicurezza, il clinical risk management, il ruolo dei facilitatori, questa rete e poi la ricchezza che può derivare dal reporting, che è un learning system fantastico. e ora noi abbiamo queste idee su molti fronti, cioè sfruttare la conoscenza per guidare meglio il cambiamento. In questa sala ieri abbiamo parlato di un altro cruscotto, quello delle criticità, sa chi di voi c'era, insomma lo ricorderà, le criticità gestionali, che sono i reclami, che poi a fine sono parenti stretti anche del tuo pensiero. Ecco io, ditemi se ci sono interventi, ecco ce n'è uno. Allora, se c'è, altrimenti c'è. Ma intanto che arrivano, insomma, ci conosciamo, non sei una timida, sei capace di parlare anche da lì nel mezzo. Però presentati. Sono Sandra Rogialli, lavoro nell'ASL 10 e nell'ASL 10 da qualche anno mi occupo del benessere organizzativo e delle criticità relazionali. Allora, qualità e sicurezza. Il tema della qualità e sicurezza ha a che fare sicuramente con i percorsi, sicuramente con le linee guida, ma ha anche a che fare col benessere degli operatori. Cioè, nella nostra azienda, sto lavorando molto con il nostro collega, molto, ultimamente abbiamo cominciato a lavorare con il responsabile del rischio clinico, perché la situazione di difficoltà degli operatori è un elemento cruciale dell'aumento del rischio in sanità. Noi abbiamo questa come la risorsa più grossa del nostro sistema, è inutile stare a scordersi dietro a un dito, è vero, la tecnologia, gli ospedali, ma se non manuteniamo, passatemi il termine negativo, la risorsa umana siamo perdenti. Perché noi lavoriamo attraverso noi, attraverso gli operatori. Allora, ora ci sono due fenomeni, noi faremo un focus su questi due rilevanti che stanno accadendo. Si collegano a tante delle cose emerse in questi giorni. Uno, l'invecchiamento nostro. Noi andiamo in pensione dieci anni dopo di quando si andava in pensione prima. Noi andiamo in pensione a 67 anni, se ci va bene, se non ce lo portano a 70. Prima si andava all'incirca ai 57. Quindi significa che l'organizzazione del lavoro dovrebbe pensare di adeguarsi alla sua popolazione lavorativa che invecchia. Ci sono aziende private che lo fanno. Abbiamo invitato l'azienda della nettezza urbana di Genova che ha adattato i propri mezzi ai lavoratori che invecchiano, perché si possono piegare di meno, perché eccetera eccetera eccetera. L'altro elemento sull'invecchiamento però è anche, come dire, un'attenzione a non demotivare chi è vecchio, ma comunque sa ancora e può ancora dare. Tanto che un titolo delizioso che vi do, perché ecco il punto interrogativo di uno dei docenti che verranno da noi è dipendente vecchio, fa buon brodo? Allora ci sono delle caratteristiche di noi vecchi che possono essere ancora sfruttate dall'azienda come ci sono delle caratteristiche che chiaramente vedono e devono vedere l'immissione di nuove persone a cui passare competenze. L'altro elemento che vi do, che stiamo seguendo come benessere organizzativo, è il tema dell'aumento pesantissimo delle aggressioni degli utenti ai nostri operatori. C'è sicuramente il tema delle proteste all'URP, su cui tante ragioni hanno gli utenti, che poi il nostro core business è rispondere a chi ci dà il mandato che sono gli utenti, non vi è dubbio. Ma in questo ci sono anche tutta una serie di aggressioni che sono notevolmente aumentate perché il nostro sistema non è più quello di una volta, non dà più le possibilità e le risposte di una volta e le persone che ritengono ad avere dei diritti si rivolgono ai nostri operatori, soprattutto quelli di front office o al pronto soccorso, in maniera, come dire, sgarbata, sono in aumento le aggressioni verbali che difficilmente monitoriamo perché sono nascoste, non vengono, mentre se c'è l'aggressione fisica si traduce in infortunio sul lavoro, l'aggressione verbale no, difficilmente. Ora l'incident reporting a volte le rilevano, ma quando lo chiediamo. Quindi in questo, secondo, come dire, pongo questo tema della attenzione alla risorsa umana perché è fondamentale soprattutto in un momento come questo con le organizzazioni che cambiano. Le organizzazioni che cambiano stanno comportando per molti operatori il cambiamento di una serie di parametri di rapporto vita privata-vita lavorativa che non saranno banali. Non saranno banali e su questo allora c'è da lavorare a come fare a mantenere alto il morale, la voglia di continuare a dare perché noi abbiamo ancora nel nostro sistema persone che si sono formate all'etica e alla morale del servizio sanitario pubblico che su questo si sono impegnate e sono quindi più a rischio di essere demotivate da una situazione che non le tenga in considerazione. Grazie Sandra. Si merita anche, secondo me, un applauso, un bel intervento. Ricordo, fra l'altro, Sandra, l'abbiamo detto stamattina, per la verità, che oggi è la giornata mondiale UMS per la violenza delle donne e insomma nei front office spesso ci sono proprio le donne. anche di questo dobbiamo dare atto. Employers first, diceva Carlo Tomassini citando un famoso manager indiano e quindi i professionisti che se sono demotivati, no Sandra, finiscono con quell'altra questione del satisfaction mirror, cioè finiscono con abbassare la qualità della prestazione percepita, dico quella percepita da parte degli utenti. Ecco perché appunto un organico medico, un femministico, tecnico, appassionato ottiene i migliori risultati e in generale minor contenzioso, minori reclami, alla fine tutto sommato un minor rischio clinico. ottima intervento e credo da sottolineare. Ci sono altri elementi? Allora, considerando il fatto che avevo promesso arresti che doveva tornare via, aveva un altro impegno, avrà già sicuramente fatto tanti, che l'avrei lasciato dentro le quattro, insomma con parziale remissione delle colpe, dichiaro e vi ringrazio, è chiusa la giornata, e vi ringrazio per i contributi e l'attenzione. Grazie. La resistenza.